E' un'annata all'insegna del rinnovamento, quella che sta per iniziare in casa basket jarre. Dopo la delusione per la retrocessione dalla Serie C Silver, infatti, la società giallo-blu riparte dalla Serie D con un progetto tecnico basato su una rosa ringiovanita e nella stragrande maggioranza composta da ragazzi del territorio, con l'eccezione di Alberto Genovesi, arrivato in prestito dal Gravina. La prima squadra quest'anno tornerà a essere guidata da Ignazio D'Angelo, che contattato ieri si è espresso sul prossimo torneo di D e in generale sulla stagione che verrà. Santa Croce Camerina e Piazza Armerina, secondo l'allenatore giallo-blu, partono leggermente avanti nei pronostici, non dimenticando poi una realtà blasonata come quella di Ecireale. In una Serie D all'insegna dell'equilibrio, l'obiettivo del jarre, secondo D'Angelo, sarà quello di disputare un buon campionato senza assili di risultati immediati, dando spazio ai tanti giovani che compongono il roster. Spine e Ceurella, infatti, saranno gli unici nati negli anni Ottanta. Altre conferme importanti sono quelli di Caminiti e Marzo, in una squadra che vedrà, tra le proprie fila, molti ragazzi nati alla fine degli anni Novanta. Il nostro è un progetto a lungo termine, ribadisce D'Angelo. La volontà è quella di far crescere nel tempo un gruppo consolidato nel quale inserire gradualmente i ragazzi che arrivano dalla promozione, allenata anche quest'anno da Simone D'Urso. Dopo 20 giorni di preparazione atletica, oggi alle 21, il gruppo di D'Angelo disputerà la prima amichevole stagionale, ospitando al Palaiungo la Cibonacorsi.